Martin Buber I nuclei centrali del pensiero di Buber sono il ciassidismo e la concezione dialogica come essenza dell'essere umano. Il ciassidismo è concepito come dialogo tra cielo e terra, come espressione di fede vissuta non intellettualisticamente ma come santificazione del quotidiano. Buber distingue due dimensioni della sfera relazionale. Quella dell'esso e quella del tu. La prima appartiene all'esperienza, al mondo dell'oggetto, delle scienze. La seconda appartiene all'esperienza, alla vita dello spirito. Nel 1923, anno della pubblicazione di Io tu, segna l'inizio della maturità filosofica di Martin Buber che è ormai sotto il nome di filosofia dialogica. La filosofia, secondo Buber, deve essere espressione dell'esperienza vissuta del filosofo il quale è coinvolto in prima persona e ha il compito di esplicitare il valore universale della propria esperienza. L'uomo autentico, secondo Buber, si definisce come persona che nella relazione Io tu prende coscienza di sé come oggettività. Il filosofo Buber elabora una prospettiva di pensiero a cui cardine sono i temi del dialogo e della relazione. Il mondo è duplice, già che l'uomo può porsi dinanzi all'essere in due modi distinti, richiamati dalle due parole base che può pronunciare al suo prospetto. Io tu e io esso. Si potrebbe essere indotti a pensare che la parola io tu alluda ai rapporti con gli altri uomini e la parola io esso si riferisca invece a quelli con le cose inanimate. In realtà la questione è più complessa, in quanto l'esso può comprendere anche lui o lei. L'io esso finisce per coincidere con l'esperienza concepita come ambito dei rapporti impersonali, strumentali, superficiali, con l'alterità, sia umana sia extraumana. Questo schema dualistico presuppone che l'io dell'io esso sia individuo, mentre l'io dell'io tu sia la persona. La relazione con l'esso è il paradosso di una relazione che si costituisce, e per poi essere negata e degradata a rapporto unilaterale, mentre la relazione di l'io tu trascina con sé l'accoglienza reciproca e il mistero di una scoperta che si offre per entrambi.